Comin' out for my life Buongiorno ragazzi, ci siamo svegliate stamattina sarà simile a ieri perchè ci alleniamo stessa routine, stessa colazione tra l'altro perchè mi trovo bene con la crema di riso quindi ho ottenuto quella anche per stamattina e si andremo ad allenarci farò l'ultima sessione della settimana oggi è sabato e poi vi faccio vedere però andremo a Lugano, faremo dei giri non so se porto la fotocamera magari vloggo col telefono adesso devo vedere però ecco facciamo un po' di giretti allora a livello di sensazioni dopo qualche giorno di alimentazione vegetale io pensavo mi sarei sentita molto più gonfia perchè in realtà non è che tollerò benissimo le fibre però i prodotti che mi sta facendo vedere Giovanna in realtà non hanno tantissime fibre l'ho guardati o quantomeno mi so fatta dire il quantitativo devo dire che li sto anche digerando molto bene niente diciamo che avevo delle preoccupazioni in realtà che si sono dimostrate infondate ma mi sono svegliata tipo mezzo chilo 400 grammi in meno mezzo chilo in meno non lo so se è perchè in realtà non è che sto contando benissimo cosa sto mangiando quindi magari a calorie potrei anche essere leggermente sotto perchè il livello di attività giornaliera più o meno è quello perchè contate che qui mi muovo tanto però anche a casa traslocando mi muovo abbastanza questo periodo è bello attivo quindi a livello di attività devo dire che secondo me non si discosta troppo da quello che facevo a casa durante il trasloco quindi non so magari sto mangiando un pochino meno per saperlo dovrei contare precisamente però essendo in trasferta in vacanza non c'ho tanta voglia sinceramente io mangio un po' a sensazione quando mi sento sazia smetto di mangiare però ecco questi sono i primi feedback su questi giorni di alimentazione vegetale con qualche piccolo sgarretto però per lo più vegetale a fine vacanza voglio trarre delle conclusioni avendo ovviamente accumulato più giorni però insomma devo dire che per ora mi sto trovando abbastanza bene dunque oggi è una giornata bellissima guardate che roba no ma ti si vede ti si vede ah fai vedere l'outfit la gioia è come me i reggisieni Prozis e i leggings FGM per forza io invece ho sempre scusate ho il sole negli occhi i leggings FGM questi sono quelli Merlot push up però stavolta ho il reggisieni FGM mi pensavo di avere quello Prozis invece ho portato ho fatto uno switch e poi ho una magliettina tipo di quelle termiche ma in realtà me la toglierò perché si stava anche bene e una ferpetta Nike e i calzini sono un tocco di stile perché sono quelli di Kittering l'ho preso mi pare da Calzedonia una roba del genere c'era tutti quelli di Kittering l'ho preso tutti ovviamente ecco dai dici come hai preparato questi sono cos'è? pollo finto esatto molto semplice ho fatto rosolare il pollo finto nello zafferano ok pepe e rosmarino dopodiché dopo circa dieci minuti ho aggiunto yogurt e soia e ha fatto questa cremina per qua c'è riso e pasta per me e per te esatto e il pollo finto cosa sarebbe? cioè tipo con cosa è fatto? allora è stato inventato in Svizzera ed è fatto a base di proteine del pisello e questo invece? a quello di mia mamma ah ok e questo è tofu ma fatto di ceci si chiama Kofu Kofu no vabbè ma ecco questo alla fine è il piattone di pasta lei ha il riso e poi abbiamo le verdurine lì o ci ha messo anche un filo d'olio che abbiamo già finito no dai sono ancora tutte lì ma guarda che bellina questa ma guarda che bellina questa dici? il più dei leggings FGM No, tranquilla La Gio mi ha volato in questo posto a Lugano che è il bar al porto, giusto il bar Gran Caffè E io ho preso questa pastina alle castagne, che volevo provare, avevo visto la pubblicità, quindi altro sgarro, mamma mia Ovviamente non devo nemmeno stare a precisare che il termine sgarro è usato in modo giocoso ironico perché non sto mangiando vegano Ma come vedete la mia alimentazione in vacanza è intuitiva e abbastanza libera Buongiorno, qui ci siamo svegliate, oggi che non mi alleno ho fatto un porridge con l'avena Però lo stesso modo della crema di riso, quindi ci ho messo, ci ho mescolato con l'acqua bollente e poi ci ho messo dentro le proteine vegetali e il burro d'arachidi Poi siccome ci stava bene ho usato questo cioccolato al cocco che è anche questo vegano, è molto molto buono Banana e burro d'arachidi, questo qua sempre prozis, qua poi ho i miei integratori, omega 3 multivitaminico, tè Dai, dopo colazione stiamo facendo i pancake salati per portarli che andiamo in montagna, giusto? Esatto Come si fanno? E sono fatti a base di farina di ceci Che serve ad addensare, mi ha detto la Gio Esatto, però sì Poi qua abbiamo farina di spelta di farro bianca e farina di farro integrale, si può mettere quella che si vuole in base ai gusti E qui abbiamo proteine vegetali dal pisello di prozis Ah beh, grazie, wow Sempre con noi Codice sconto Clara M Esatto, 10% più tanti omaggi Poi abbiamo un pizzico di bicarbonato che si fa reagire con un pizzico di aceto Ok In caso non avesse l'aceto non c'è problema, si può usare anche semplicemente un po' di limone Un po' di lievito anche O acqua, anche sì, oppure acqua gasata, cioè ci sono varie strategie Poi magari mettiamo un po' di Spezie, ok I pomodorini che avevo precedentemente Tagli, perché lei è mattiniera, si è svegliata alle 6 e mezza Un po' di pepe Ok E un po' di sale anche Ok, sì Eh, nulla E basta, quindi adesso miscoliamo tutto, giusto? Esatto Vai, andiamo Quindi abbiamo messo 40 di farina di ceci Poi un po' di farina bianca di farro E un po' di farina integrale di farro E poca, poca di integrale Potete usare anche altre farine, salaceno esce bene Buona Ed anche avena Però abbiamo già mangiato avena a colazione Esatto, quindi abbiamo fatto totale 80 grammi Preciso, eh Perfetti Ok, proteine 15 grammi ha detto Quindi adesso aggiungiamo anche quelle Bisogna essere molto molto precisi con l'acqua Perché deve raggiungere la consistenza che sia quella di un pancake Non quella di un pappone E almeno quella di una crepe Liquida Quindi Quindi abbiamo detto 140 Sì, tra 130 e 140 Ok E in sé su 95 di secco Ok Eh beh, certo, sì Su 95 di secco, giustamente Ecco, faccio vedere Aspetta che Scusa Tipo la consistenza è questa qui Un po' cremosa Un po' cremosa, dai Poi mettiamo il bica Poco Ok Un pizzico di aceto Poco Ok Ah, e vedi che reagisce Sì, fa questa bellissima reazione chimica Ok Poi aggiungiamo Rosmarino Yes Pepe E pomodorini E sale Esatto Ho già revisionato la ricetta di Giovanna Ma siccome io non digerisco benissimo i pomodorini Per me mettiamo finocchi, carote e delle mandorle E butto tutto dentro E lei invece sta facendo il suo impasto Poi mettiamo un pizzico di sale Cioè pizzico, nel senso un grammo di sale Così Allora, stiamo mettendo un po' di paprika E poi ho aggiustato anche l'acqua Perché giustamente ha detto che i pomodorini lasciano acqua Io non ne avevo tanti E quindi ne ho messa un pochino di più La consistenza dovrebbe essere questa Poi ovviamente andate a occhio E vedete voi Non c'è una quantità proprio precisa In base ai gusti Esatto Abbiamo riscaldato un attimino qui E aspettiamo un attimo E poi facciamo dei pancake Forse ne vengono due, sì Ok, abbiamo messo a cuocere il pancake Stai anche facendo le bollicine Poi lo giri dopo? Sì Ok, quindi lo cuciamo Sì esatto E lo giriamo Quando poi è pronto Vai Niente pressione Uh, brava Bello Grande C'è sempre un momento di brivido Cosa che volevo documentare Sono le prese qua in Svizzera Che sono stranissime Niente Un fan fact Cioè È geniale però Sono tutte unite e compatte L'unico problema che ho riscontrato Con il caricatore dell'iPhone Che è un po' largo Non si inseriscono bene le altre due Però a parte questo Sono fighe Ho versato il mio Raga Ho versato Adesso Questa è l'altra metà Quindi da già sono lì Già pronti Ok, questi sono i pancake Sono i miei ovviamente Il contenitore rosa Perché da già mi conosce E poi mi sono borrata una banana Perché l'agio mi sta spaventando Che oggi andiamo al ponte tibetano Sì E dobbiamo camminare un po' in montagna Ho paura che non sia abituata Scusate per la faccia Allora io effettivamente Non sono abituata a camminare in montagna Però Cioè Cammino abbastanza Quando viaggio solitamente Quindi vediamo Vedremo cosa succede Perché ne vedremo delle belle Già ieri mi ha impedito di fare polpacci In allenamento Perché ha detto meglio di no Effettivamente era una buona idea Perché avesse avuto i dom salto ai polpacci Sarebbe stato tremendo Li facciamo quando torniamo Esatto No ma li facciamo mentre siamo in montagna Sì ma poi anche quando torniamo Un po' di Un po' di forza Ciao a tutti ragazzi Buonasera Come vedete sono tornata a casa Ancora la casa è un po' In costruzione Però Piano piano ne stiamo venendo a capo Comunque Volevo Chiudere questo video Raccontandovi Cosa è successo Nel mentre Perché ho lasciato la telecamera Sabato Siamo andate a Lugano La sera Abbiamo visto Abbiamo fatto un giro per Lugano Che è bellissima Io c'ero già stata Ma non me la ricordavo così bella Perché sono stata piccolina Quindi abbiamo Visto un po' in giro la città E poi siamo andate a teatro A vedere uno spettacolo Sull'ultimo canto Del paradiso di Dante Bellissimo Io non me l'aspettavo Però veramente Ne valeva la pena Molto molto bello Era proprio Nel LAC Che è Il centro culturale A Lugano E tra l'altro È di nuova costruzione L'hanno costruito 7-8 anni fa Bellissimo anche quello Poi oggi Che è domenica Siamo andate in montagna Mi ha portato al ponte tibetano A Belinzona Che è proprio lì Siamo dovute andare su in alto Io non sono Tanto allenata Per camminare in montagna Non l'ho quasi mai fatto Nella mia vita E quindi è stata bella dura Però alla fine abbiamo fatto questo ponte tibetano Sono sopravvissuta Siamo andate con due gemelle Una delle due la seguo È un'altra mia cliente del coaching E sono stata felicissima di averla vista L'avevo già vista in palestra le gemelle Però l'ho rivista domenica E cioè oggi Sono stanchissima ragazzi Scusate ma veramente È stata dura Poi ho preso Mi sono fatto una doccia Ho preso il treno E adesso sono qua a casa Io e mio ragazzo Giovanni Abbiamo mangiato un panino da pescaria Che è un posto Che dove fanno panini di pesce Lili Allora Ma scusa Mi piace mangiare Quindi ho chiuso così i miei giorni da vegana Non in modo vegano però Pesce tariana Mentre la Lili è qua che mi agola Volevo farvi vedere cosa mi hanno regalato Le girls Cioè davvero sono state troppo gentili Carine Allora Questo è un feature regalo Mi ha detto Sono gallette Con Una farina Tipica Loro Oltre che le gallette Mi hanno regalato La Proprio la farina E per fare Non so anche i pancake O cosa Si chiama farina Bona Non so se lo dico giusto Però si È Una farina Di mais Tostato e macinato Ah ok Ora ho capito cos'è Poi mi hanno regalato Dei cornflakes Alla castagna Perché lì ci sono un sacco di castagne Infatti oggi nel bosco mi sono un sacco E poi Diciamo che Stavo per non passare i controlli doganali Per spaccio di cioccolata No scherzo però più o meno Mi hanno regalato un sacco di cioccolata Marca Loro Cioè proprio del Del ticino Si chiama cioccolata stella Allora questo è 92% cioccolata fondente Questo è latte con nocciole Caramello e sale Al latte Madonna questa deve essere buonissima Fondente al 100% Che la uso sempre Questa è una cioccolata detto porcosa Con una loro pasta frolla dentro E ha detto che è veramente una bomba Questa cioccolata nera con nocciole Buonissima Una delle mie preferite Cioccolata fondente E Cioccolata al latte E sale E poi Non è mica finita qui Perché mi hanno regalato anche Questi qua Che sono vari tipi di cioccolata Sia bianca Fondente al latte Di vari gusti E Vabbè Veramente sono state Troppo carine Questo era il negozio Della cioccolata Stella In stazione a Bellinzona E Ci ho preso un regalino per mia mamma Però Veramente C'era tanto di quel cioccolato Da svenimento E qua Vabbè Giovanna Sapete che ha preso Le proteine Vegetali Solo per me Quelle aromatizzate Quindi poi mi ha chiesto Se volevo portarle a casa Perché tanto lei non le usa Quindi Questo è qua il burro d'arachidi Devo dire che mi sono piaciute molto Oggi Oggi L'ho mangiata Con delle gallette Al grano saraceno E la mela sopra Le fettine di mela E sono una bomba A tal proposito Volevo dirvi che In questi giorni Sono carata di peso Ma È anche vero Che Ho mangiato un po' D'intuito Non sono stata A Guardare quanto Quanto mangiavo Per lo più eravamo fuori In giro E quindi Non ho prestato molto attenzione A quello Quindi può essere Che io abbia mangiato un po' O meno E sia carata di peso A livello di attività fisica A parte oggi Che siamo andate in montagna Abbiamo fatto un sacco Di chilometri In salita E fatica Eccetera A livello di attività fisica Più o meno Era quella che Facevo anche qua a casa Traslocando Di conseguenza Il calo di peso Penso sia Dovuto al fatto Che Ho mangiato un po' Meno del solito Non monitorando bene La dieta Però A livello di gonfiore Devo dire che Il primo e il secondo giorno Stavo bene Oggi ero un pochettino gonfia Non so bene Cosa mi abbia gonfiato Però appunto Se dovrò fare Delle scelte di questo tipo Magari dovrò stare Un pochino più attenta Alle fonti Alla quantità di fibre Perché ovviamente Non contando Non so bene Cosa Cosa io abbia mangiato Questi giorni Mi hanno fatto Un po' riflettere E Soprattutto sul fatto Che Non sarebbe male Non dico di passare A un regime Totalmente vegetale Perché quello Onestamente Lo dico Non penso Di poterlo fare Nel senso È difficile È una scelta difficile Ammirevole Per chi lo fa Per motivi ambientali Però Personalmente Non penso Sia la scelta Sia la scelta migliore Per me Per il mio corpo E anche per la mia mente Sinceramente Quindi Non intendo Passare a un regime Totalmente vegetale Però Mi piacerebbe Ogni tanto Incorporare Dei pasti vegani O comunque Sì appunto Con fonti Vegetali Quindi mi è servito Tantissimo Questo weekend Ringrazio un sacco Giovanna Che sicuramente Stara guardando Questo vlog Quindi grazie mille Quello che dovevo dirti Te l'ho scritto Quindi Lo sai già È veramente diventata Più di una cliente Del coaching Per vari motivi Ci siamo avvicinate Tantissimo E Sono veramente felice Di Anche di Quello che il mio lavoro Mi permette di fare Ovvero di conoscere Delle ragazze Fantastiche Sia tramite I personal Ma anche Con i messaggi Che ci scambiamo Con i check settimanali Veramente ho modo Di conoscere Delle persone Stupende Sono veramente Grata di tutto ciò Basta Finisco di parlare Che già sto parlando A 5 minuti Spero che questo vlog Vi sia piaciuto E vi abbia fatto Anche a voi Un po' riflettere Sulle vostre scelte Sulla vostra alimentazione E vi abbia dato Anche qualche spunto Per qualche ricetta vegana Perché io ne ho ricevuti Parecchi E ho capito Che non è così difficile Cucinare vegano